Diciamo è già un bel risultato ma non ci accontentiamo e cercheremo di fare meglio, meglio di ieri e di migliorarci appunto sempre. Loro sono insidiose perché sono una squadra difficile, hanno un pubblico dalla loro parte veramente attivo, se così si può dire, e quindi sarà davvero una bella partita. Quella è stata proprio per rompere il ghiaccio, era la prima partita in casa loro, contro i loro, quindi veramente difficile. E adesso noi abbiamo avuto modo di allenarci di più insieme e quindi secondo me cercheremo di fare molto meglio. È stato difficile entrare in quest'ottica che entri e devi spaccare, devi tirare forte, però mi piace e mi diverte.